buongiorno a tutti oggi ciambellone allo yogurt per questa ricetta gli ingredienti che ci occorrono sono questi 140 g di zucchero 150 g di yogurt al naturale 120 ml di olio un pizzico di sale una bustina di lievito 250 g di farina un limone succo e scorzetta grattugiata procediamo così iniziamo con le uova aggiungo lo zucchero e comincio a sbattere aggiungo il pizzico di sale lo yogurt aggiungo l'olio aggiungo il succo di mezzo limone e la scorzetta setaccio la farina e il lievito e l'aggiungo al composto l'impasto è pronto ora non ci rimane che imburrare in farirane una teglia di 24 25 centimetri verso l'impasto nello stampo metto a 165 gradi in forno ventilato per circa 30 35 minuti eccola qua appena sfornata io adoro questa ricetta è semplicissima va impastata senza fruste elettriche e senza nulla eppure da un risultato incantevole a breve la tolgo dallo stampo e vediamo come è venuta al suo interno l'ho capovolta e anche sotto è cotta in maniera perfetta come dicevo a 165 gradi per 30 minuti 30 35 minuti poi dipende dal vostro furno l'ho capovolta e anche sotto